La miniera di Baustite di Olmedo non rimarrà chiusa e incustodita a partire dal 1 gennaio. L'assorato regionale dell'industria infatti ha deciso di prorogare il contratto con IGEA per 17 dei 25 dipendenti del sito minerario. Un contratto che sarebbe scaduto oggi e che avrebbe lasciato a casa i dipendenti e privi di qualsiasi controllo in pianti e macchinari. Si chiude positivamente un'avvertenza che aveva impegnato negli ultimi giorni i sindacati assessorato regionale all'industria ai vertici di IGEA. Da CGL e UGL erano arrivati alla regione dei pressanti appelli affinché si arrivasse ad una proroga al contratto per i minatori di un sito che rimane l'unico attivo in Sardegna che ha ancora un potenziale estrativo di 30 milioni di metri cubi di materiale. La Baustite, elemento base dell'alluminio, è in vista della riattivazione degli impianti per la produzione di questo metallo da parte della Saida Lois di Portovesme chiudere la miniera sarebbe stata una contraddizione. Certo, la proroga del contratto serve da un lato per mantenere in sicurezza gli impianti e guadagnare un po' di tempo per consentire la ricerca di una società interessata a rilevare l'attività estrattiva. Rimane il problema per otto lavoratori che hanno gli ammortizzatori sociali scaduti o in scadenza. Anche in questo caso i sindacati chiedono alla regione di trovare una soluzione nell'ambito delle diverse forme di aiuto previste per chi abbia perso il lavoro. Intanto va però registrata positivamente la svolta dell'avvertenza con la proroga dei contratti per 17 dipendenti la cui durata al momento non è stata specificata da Egea.